Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video, oggi addominali in 5 minuti, seguite lì, iniziamo, 30 secondi scissori, via! Ok, di top! Ok, ok, ok? Ok, ripos dance in round, e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'o''. uff due e treccio piaccio 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 Ok, sit down. 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 Ok. Sit down. Sit down. Ok. Ok, sit down. Ok, sit down. Ok, sit down. Ok, sit down. Amen. Ok, sit down. 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 Ok, sit down.